Ho spiegato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarellum eri capogruppo. C'erano i vostri ministri al governo Letta.